Ciao a tutti, io sono Giovanna e sono responsabile del gruppo giovani di ACR di Lignano Garganico, dal quale vi saluto caramente. Nella mia riflessione di oggi vorrei parlarvi di quello che è stato uno dei tanti messaggi che ha lasciato la pandemia, l'importanza cioè delle relazioni e l'importanza soprattutto di mettersi a disposizione della comunità e di chi ne ha bisogno. Infatti dopo la pandemia, quando sono ritornata nel mio paese, ho deciso di intraprendere insieme ad altri due responsabili, altri due ragazzi, di prendermi cura di questo gruppo giovani che abbiamo seguito e che stiamo seguendo tuttora. Quindi il mio fioretto per questa giornata e che vorrei proporre a tutti è proprio questo, cercate di non rimandare, di dare il vostro tempo anche alla comunità, cercatevi di mettere in prima persona a disposizione della comunità, anche per una piccola cosa, come può essere questa, come può essere un qualsiasi altro impegno anche a livello della comunità cattolica, perché è molto importante e soprattutto in situazioni in cui figure come la nostra possono dare un grande supporto ai giovani, soprattutto per quello che riguarda il loro percorso all'interno della Chiesa è davvero molto importante. Vi ringrazio e vi saluto.